In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Vieni al Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. La Madonna degli Iscritti di Maria Valtorta, riprendiamo il capitolo sulla verginità della Madonna. Ecco, dal particolare Maria Santissima fu Vergine di Spirito che abbiamo introdotto nella puntata precedente e che adesso riprendiamo. Abbiamo visto la volta scorsa come la Madonna era stata illuminata, per rilacciarsi un po', circa la causa del male nel mondo, cioè del peccato originale. E come lei diceva al Signore, dice sì, questo mi ha spinto a fare il dono di verginità, però certamente era grande il sacrificio di non essere madre. Quindi riprendiamo la lettura da qui. Da ciò appare come Maria Santissima non ancora treenne, non aveva ancora tre anni, voglia offrirsi tutta come Vergine a Dio per tutta la vita. Quindi ciò che la tradizione della Chiesa ha sempre saputo, che la Madonna è stata la prima a fare il voto di verginità, dagli iscritti di Maria Valtorta ci viene l'informazione che l'ha fatto quando non aveva ancora tre anni. Chiese infatti ad Anna, sua madre, che le aveva parlato della profezia di Daniele sul tempo della venuta di Cristo. Qui attenzione che parla Maria Bambina, è una bambina di neanche tre anni. Dimmi mamma, ma se io pregassi tanto, 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 giorno e notte, e volessi essere solo di Dio per tutta la vita, per questo scopo, cioè per anticipare la venuta del Messia, L'Eterno mi farebbe grazie di dare prima il Messia al suo popolo? Alla risposta affermativa della mamma, la piccina risponde Ah, allora io pregherò e mi farò Vergine per questo. La mamma le domanda Ma sai tu che vuol dire tale cosa? Vuol dire, le risponde la piccina, non conoscere amore di uomo, ma solo di Dio. Vuol dire non avere altro pensiero che per il Signore. Vuol dire rimanere bambine nella carne e angeli nel cuore. Vuol dire non avere occhi altro che per guardare Dio, orecchie per udirlo, bocca per lodarlo, mani per offrirsi ostie, piedi per seguirlo veloci, e cuore e vita per dargli a lui. Te benedetta, risponde Sant'Anna. Però, allora non avrai mai bambini. Tu chiami tanto i bambini, gli agnellini, le tortorine. Sai, un bambino per una donna è come un agnellino bianco e ricciuto, è come una colombina dalle piume di seta e la bocca di corallo che si possono amare, baciare e sentirsi dire mamma. Non importa, io sarò di Dio. Nel Tempio pregherò e forse un giorno vedrò l'Emmanuele. La Vergine, che gli deve essere madre, come dice il gran profeta, già deve essere nata ed è nel Tempio. Io le sarò compagna e ancella. Oh sì, se la potessi conoscere. Evidentemente non si sa se ride o trattenere le lacrime, che è un po' difficile quando si leggono questi passaggi. Se la potessi conoscere, per luce di Dio la vorrei servire quella beata e dopo ella mi porterebbe il figlio, mi porterebbe al suo figlio e servire lui pure. Pensa mamma, servire il Messia. Maria è sopraffatta da questo pensiero, che la sublima e l'annienta insieme. Riprende. Ma me lo permetterà il re d'Israele, l'unto di Dio di servirlo. La madre le dice, non ne avere dubbi. Non dice, re Salomone, 60 sono le regine e 80 le altre mogli, le fanciulle sono senza numero. Tu vedi che nella reggia del re saranno senza numero le fanciulle vergini che serviranno il loro signore. Oh, esclama la piccola, con aria di trionfo, vedi allora che devo essere vergine. Lo devo. Se egli per madre vuole una vergine, è segno che ama sopra ogni cosa la verginità. E voglio che mi ami, me e sua serva, per la verginità che mi farà un poco simile alla sua madre di letta. Questo voglio. Vediamo che ci sono due note. Ecco, all'affermazione Pensa mamma a servire il Messia c'è una nota che dice in un altro luogo la vergine asserisce di essersi negata ad ogni umano sponsale col vuoto di verginità. E a proposito di quest'ultima affermazione della sua verginità e questo voglio c'è una nota un pochino più estesa molto estesa. Dice Gesù a questo proposito contro le obiezioni che potrebbero porsi a questo parlare di una bambina di neanche tre anni riportiamo qui l'anticipata soluzione delle medesime. Dice Gesù sento già i dottori del cavillo antichi e nuovi antichi e nuovi è una glossa mia. Come può una bambina di non ancora tre anni parlare così? È un'esagerazione. E non riflettono che loro mi fanno mostruoso alterando la mia infanzia ad atti di adulto. Sapete l'Evangelio Autopo che dice Gesù Bambino parlava quando era ancora che c'aveva un anno con voce da adulto tutte queste cose qui insomma farneticazioni no? L'intelligenza prosegue non viene a tutti nello stesso modo e tempo. La Chiesa ha fissato la responsabilità delle azioni a sette anni penso che lo sappiate questo qui da sette anni si diventa responsabile delle proprie azioni ecco perché la prima confessione viene fatta in età abbastanza tenera perché quella è l'età in cui anche un tardivo può distinguere almeno rudimentalmente il bene e il male ma vi sono bambini che molto prima sono capaci di discernere e intendere e volere con ragione già sufficientemente sviluppata la piccola Emel De Lambertini Rosa Daviterbo Nelly Organ Nennolina vi diano basi o dottori difficili per credere che mia madre potesse pensare e parlare così non ho preso che quattro nomi a caso nelle migliaia di santi bambini che popolano nel mio paradiso dopo aver ragionato da adulti sulla terra per più o meno anni cosa è la ragione un dono di Dio Dio lo può dunque dare nella misura che vuole a chi vuole e quando vuole darla la ragione è anzi una delle cose che più vi fanno somiglianti a Dio spirito intelligente e ragionante la ragione e l'intelligenza furono grazie date da Dio all'uomo nel paradiso terrestre e come erano vive quando la grazia era viva ancora intatta e operante nello spirito dei due primi nel libro di Gesù Bar Sirac il Siracide per renderlo comprensibile è detto ogni sapienza viene dal Signore e Dio ed è stata sempre colui anche avanti i secoli questo è proprio il primo versetto del libro del Siracide quale sapienza avrebbero gli uomini se fossero rimasti figli a Dio le vostre lacune nell'intelligenza sono il frutto naturale del vostro decadimento nella grazia e nell'onestà perdendo la grazia vi siete allontanati per secoli la sapienza come meteora che si nasconde dietro la nebulosità di chilometri la sapienza non vi è più giunta con i suoi netti bagliori ma attraverso foschie che le prevaricazioni vostre rendevano sempre più grandi poi è venuto il Cristo e vi ha reso la grazia dono supremo dell'amore di Dio ma voi la sapete custodire questa gemma netta e pura? no quando non la frantumate con l'individuale volontà di peccato la sporcate con le continue colpe minori le debolezze le simpatie al vizio anche le simpatie che se non sono veri coniugi col vizio settiforme sono indebolimento della luce della grazia e della sua attività avete poi a indebolire la magnifica luce dell'intelligenza che Dio aveva dato ai primi secoli e secoli di corruzioni che si ripercuotono delle terre sul fisico e sulla mente ma Maria era non solo la pura la nuova Eva ricreata per gioia di Dio era la super Eva era il capolavoro dell'Altissimo era la piena di grazia era la madre del verbo nella mente di Dio fonte della sapienza dice sempre Gesù Barsirac è il verbo con la bu maiuscola il figlio non avrà dunque messo sul labbro della madre la sua sapienza se ha un profeta che doveva dire le parole che il verbo la sapienza gli affidava per dirle agli uomini fu mondata la bocca con i verboni ardenti come si legge in Isaia capitolo 6 versetti 6 e 7 non avrà l'amore con la maiuscola alla sua sposa infante che doveva portare la parola con la P maiuscola nettata ed esaltata alla pavella perché non più parlasse da bambina e poi da donna ma solo e sempre da creatura celeste fusa alla gran luce e sapienza di Dio il miracolo non è nell'intelligenza superiore mostrata in puerile età da Maria come poi da me il miracolo è nel contenere l'intelligenza infinita che abitava che vi abitava negli argini atti a non trassicurare le folle e a non svegliare l'attenzione satanica qui su sta nota ce potremmo fare un genacolo intero facciamo un attimo un piccolo stop quindi abbiamo visto l'esplorare di Maria Bambina leggere queste cose è veramente impressionante è assolutamente commovente questo dialogo tra Maria Bambina e Sant'Anna è uno poi ce n'è uno peggio ancora non so se lo leggeremo stamattina probabilmente sì fate una preghiera perché è veramente impressionante c'è il dialogo tra Maria Bambina e Anna di Fanuel nel Tempio di Gerusalemme è uno di quei pezzi insomma che veramente il Signore bisogna bisogna ringraziarlo si è sempre liberi di non credere a queste cose però capite una delle cose che anche se è un pochino fuori fuori dell'ufficialità ecco diciamo così delle che mi ha sempre come dire acclarato l'attendibilità di questi scritti nonostante i travagli grandi che hanno avuto e che hanno tuttora in corso perché non è giunto ancora il tempo in cui possano trovare un po' di pace a mio avviso per la furia del diavolo che si è scatenata contro di essi e che purtroppo come non solo in questo caso ma in questo tempo è dato misteriosamente dal Signore potere di fare danni virgola dimmi se io pregassi tanto 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 giorno e notte notte disturbi del diavolo provocati da queste cose infernali va bene ho disattivato questa funzione ma è partita da sola allora dicevo episodi oltremodo commoventi questo è quello che le corde che diciamo così attivano nel cuore anche il senso di grandezza e di eccellenza queste sono parole di una bambina però si vede che è una bambina però si vede anche che è una bambina divina quindi le corde che muovono alcuni passaggi di questi scritti e soprattutto l'effetto che producono perché almeno a me hanno sempre prodotto un effetto di enorme accrescimento sia della stima della considerazione anche dell'amore a Gesù era Madonna che questa roba venga dal diavolo dalla fantasia di una matta esaltata come qualcuno pensa che sia Maria Valtorta di questi tempi ce ne sentono tutti quanti i colori quindi lasciamo riepore questi insomma quindi liberissimo di pensare cose di questo genere quando una cosa produce questi effetti per quanto mi riguarda non è proprio possibile che venga da una causa o umana o diabolica questo poi ecco perché figlioli miei cari anche su queste cose teniamo sempre presente il primato della coscienza questi sono tempi in cui il primato della coscienza di cui ha parlato il cardinal Newman ora santo grandi uomo deve essere quanto mai riscoperto quando noi sentiamo profondamente nel cuore qualcosa per carità rispettiamo qualunque cosa rispettiamo qualunque opinione potraria rispettiamo anche travagli momentanei ecco che queste cose possano aver avuto anche nel loro corso ecclesiale ma la coscienza è sempre la coscienza quindi la coscienza sapete come diceva il cardinal Newman no? ha detto lui è santo canonizzato ma lo dice Leonardo e attenzione dice vorrei fare un brindisi al Papa lo facciamo ma prima la coscienza e poi al Papa sono parole sue capite il senso la massima autorità presente sulla terra ma al di sopra della massima autorità attenzione divina presente sulla terra il Papa non è autorità umana quindi c'è attenzione al vicario di Cristo ma sopra il vicario di Cristo c'è il vicario di Cristo che c'è dentro di me che è la coscienza questa è la fede cattolica questa qui è chiaro che il vicario di Cristo evidentemente nell'esercizio delle sue funzioni è impossibile che vada contro la coscienza ma la coscienza di per sé è il vicario di Cristo interno e noi dobbiamo imparare queste cose qui quindi quando nel cuore ti viene detto una cosa anche dall'esterno anche da persona autorevole ma sapete quante volte specialmente quando si tratta di consigli non consoni io ve lo dico tante volte sono stato contattato da persone che mi riferiscono mi riferivano aver ricevuto consigli da parte di quello che loro asserivano essere stato ministro di Dio contrari oggettivamente contrari alla legge morale o alla legge di Dio insegnata dalla Chiesa a quanto raccontano ci sono questi fenomeni io spero sempre che non sia vero che abbiano capito male che si siano spiegati male quindi spero sempre tutto e tutto di più ma che succede? attenzione che queste persone dicono me l'ha detto il ministro di Dio quindi si deve fare questo e poi dentro si sentono male perché? perché quello che gli ha detto il ministro di Dio se è vero quello che dicono cioè che va contro la legge di Dio se tu lo metti in pratica tu stai male perché il ministro di Dio non è il padre eterno è il ministro di Dio per cui se va contro la legge di Dio tu non lo devi seguire non so se mi sono spiegato questo capita a molti questo qui e è importantissimo capire questo questo aspetto no? ecco quindi abbiamo questa bambina che parla in questo modo attenzione a quello che dice Gesù un'altra cosa molto molto importante quando fa l'elogio della ragione la ragione non è una cosa noi abbiamo la fede la ragione è roba da illuministi no no che è roba da illuministi gli illuministi ne hanno fatto un Dio della ragione sganciandola dalla legge oggettiva di Dio dalla legge naturale dall'ordine stabilito da Dio il che è follia allo stato puro è come dire riprodurre la ragione satanica che è intelligentissima ma siccome si è staccava da Dio diventa folle diventa perché la usa malamente ma di per sé in sé stessa ma la ragione è una cosa divina è una cosa che ci ha dato il nostro Signore e il Signore ci ha detto sta attento che il cervello ti funziona bene perché questo ho detto non so se avete capito o se ho letto bene forse ho letto male che il Signore ha detto il cervello ti funziona tanto quanto è viva in te la vita della grazia quindi quelli a cui si beve il cervello il gatto come si dice nel parlare comune che ogni tanto c'è qualche esemplare che compare improvvisamente la vita della grazia perché non ti si beve il cervello il gatto se la vita della grazia è fatta ecco perché la prima cosa sempre che si deve fare è procurare di avere un elevato tasso di grazia di Dio perché senza quello sparisce tutto quando non funziona bene il cervello non funziona bene la grazia Gesù sta dicendo alla Madonna gli funzionava benissimo il cervello illuminato dalla sabienza divina perché era la piena di grazia e ai primi con la P maiuscola prima che facessero il peccato originale da vedere come gli funzionava bene il cervello siamo noi a cui non funziona più bene il cervello perché la grazia è poca abbiamo due secoli di corruzione e non solo poi abbiamo anche la corruzione che abbiamo respirata e che respiriamo continuamente se ci attossichiamo in giro come può funzionare bene il cervello di questi tempi a uno che prega mai non sente mai queste cose non sente mai la parola di Dio non va mai ammessa e si ubriaca dalla mattina alla sera di tutte quante le stupidaggini e dico stupidaggini perché sono prete perché stiamo davanti al satissimo sacramento perché sarebbe da dire di peggio se fosse possibile che si sentono dire in giro dalla televisione la mattina alla sera ma come gli fa quello a funzionare il cervello capite non è soltanto un problema come gli fa funzionare il cervello nella Bibbia c'è scritto che lo stupido dice che Dio non esiste non l'atio me lo avrete sentito dire infinite volte ma in due salvi sta scritto questa cosa in due lo stolto dice Dio non esiste in greco stolto è racà racà significa proprio una persona che è fuori non diremmo è fuori non c'è sta non sta bene diremmo nel parlare feriale è comune sta fuori si diceva quando ero piccolino cioè non è uno che è uno che questo non gli funziona perché per dire che Dio non esiste vuol dire che questo non ti funziona altro che la scienza di cui si diceva con la S maiuscola ma quale è scienza sapete che la chiesa leggete Fides Trazio di San Giovanni Paolo II la scienza vera è sempre d'accordo con la fede sempre perché se non è d'accordo con la fede non è scienza sempre sempre e la fede vera non può essere mai smentita dalla scienza purché la scienza sia vera e non pseudoscienza o teoria presentata come scienza vedi tra virgolette il darwinismo o però torniamo alla virginità della Madonna che è un po' meglio però queste cose qui sono cose importanti questa glossa che Gesù ha fatto come può una ragazzina di tre anni quella è l'immacolata quella è la piena di grazia fin dal grembo della madre quella è ecco lei che ha legato la volontà a Dio fin da quale è stata concepita ragiona così e anche molto peggio ma vedremo molto peggio in senso buono molto meglio sarebbe da dire quindi lo vedremo subito ecco proviamo a leggere questo passaggio che tanto questo si commenta da solo sperando che ci riusciamo ad arrivare fino alla fine senza troppe sceneggiate che vorrei evitarle ma faccio il possibile speriamo che vada tutto bene perché questo è un passaggio molto molto delicato molto molto commovente questa prima dedizione all'eterno riprendo la lettura e a lui solo fu ispirata a Maria dall'amore verso Dio e fu continuamente alimentata dalla fiamma di un tale amore comincia l'exploit della Madonna nel Tempio quindi 4, 5, 6, 7 anni non lo sappiamo c'è stata da 3 a 12 anni quindi la collocazione storica di questo episodio non si pone però siamo circoscritti tra i 3 e i 12 anni 13 massi se mi guardo in cuore così disse nel Tempio la sua madre maestra Anna di Fanuel attenzione che Anna di Fanuel compare nel Vangelo di Luca insieme all'episodio di Simeone c'era una profetessa Anna figlia di Fanuel che aveva 84 anni era rimasta vedo e stava sempre nel Tempio secondo gli scritti di Maria Valtorta questa Anna di Fanuel era la maestra delle Vergine nel Tempio ed è stata la maestra di Maria quindi quando la Madonna andava a presentare Gesù Bambi è ovvio che l'ha riconosciuta se mi guardo in cuore ecco io vedo Dio splendere nella sua gloria d'amore e dirmi ti amo e io gli dico ti amo e mi riquefò e mi ricreo ad ogni palpiro del cuore in questo bacio al reciclo negli scritti di Maria Valtorta non si parla evidentemente della divina volontà perché il nostro Signore come ben sapete fa a ciascuno i doni propri e particolari giusto non fa assoviglia tutto ogni persona ha il suo dono qui ti amo e ti amo ha già detto tutto come noi ben sappiamo sono in mezzo a voi maestre e compagni care ma un cerchio di fiamma mi isola da voi entro il cerchio Dio e io attenzione a questa espressione entro il cerchio Dio e io la forza il segreto della Madonna quello di cui parlo in continuazione il suo rapporto personale con Dio con tutte le mediazioni possibili l'obbedia alla maestra stare insieme alle compagne ma tra me e voi c'è un cerchio ed io vi vedo attraverso il fuoco di Dio e così vi amo ma non posso amarvi secondo la carne nemmai alcuno potrò mai amare secondo la carne ma solo questo che mi ama è secondo lo spirito so la mia sorte la legge secolare di Israele vuole di ogni fanciulla una sposa e di ogni sposo una madre e questo nome non lo sapeva bene non esisteva la virginità in Israele tante volte ma io pur bidendo alla legge ubbidisco la voce che mi dice io ti voglio e vergine sono e sarò qui la madonna dà una lezione e dice che facciamo c'è la legge e dentro il cuore sento questo vogliamo fare un'altra lezione sulla coscienza il Signore gliel'ha concesso gliel'ha concesso è quello che si è inventato perché è andata in sposa a San Giuseppe quindi apparentemente era tutto regolare esce dal Tempio e va in sposa a San Giuseppe te incontra San Giuseppe nazireo consacrato quando gli dice vogliamo venire vergine a vita rimangono vergine a vita diventa la madre di Dio senza che nessuno sa cosa vedete Dio però attenzione attenzione la madonna questa cosa come faccio in queste circostanze a realizzare questa cosa è impossibile però questa cosa ancora la sento che dobbiamo fare allora non si mette frontalmente contro non farà la rivoluzione quando gli dicono vai in sposa beh il Signore mi tirerà fuori da questo guaio e la tirerà fuori al Signore dal guaio ci sarebbe da rifletterci una settimana quindi su come opera Dio anche quando ci si trova in caso di conflitti oggettivi con la legge io quello che fa la legge in coscienza sento che lo posso fare però non faccio la rivoluzione che facciamo affidiamo il desiderio al Signore e Dio provvederà questo è quello che ha fatto la Madonna che è se ci pensate la cosa più difficile di tutti perché le due soluzioni più facili è la legge dice questo non si può fare lasciamo perdere quello che mi dice il cuore oppure la legge dice questo io dico il contrario rivoluzione la cosa più difficile è la legge dice questo il cuore dice altro seguo il cuore ma fido a Dio questa è la cosa più difficile eh ma la santità perché aspira la santità purtroppo io dico il nostro Signore ogni tanto io lo dico detto fra me vi faccio una confidenza va tutto bene però è un po' troppo difficile abbi pietà insomma abbi pazienza perché così è veramente complicato insomma però questo non fa niente io pur bidendo alla legge ubbidisco la voce che mi dice io ti voglio e vergine sono e sarò sentite come lo potrò fare non si sa questa dolce invisibile presenza che è con me mi aiuterà poiché essa vuole tale cosa capite quando Dio vuole una cosa mi devo preoccupare io pochino non mettere ostacoli a quello che Dio vuole ma il resto ci pensa lui io non temo non ho più padre e madre sapete che i genitori di San Gioacchino questa è la tradizione della Chiesa già lo sapeva ma gli scritti di Maria Valtorto ovviamente lo confermano sono morti mentre la Madonna era nel Tempio e lei gli è arrivata la notizia quando era nel Tempio no? e solo l'Eterno sa come in quel dolore si arse quanto io avevo di umano si arse con dolore atroce è stata una bambina che completamente sola figlia unica era una nonna senza padre né madre da quei tempi completamente consegnata nelle mani di Dio ora non ho che Dio a lui dunque obbedisco ciecamente già l'avrei fatto anche contro padre e madre anche contro padre e madre perché la voce mi istruisce che chi vuol seguirla deve passare oltre padre e madre amorose guardie di ronda intorno alle mura del cuore filiale che vogliono condurre la gioia secondo le loro vie questo è un altro grande insegnamento e non sanno che vi sono altre vie la cui gioia è infinita questo vale soprattutto per le vocazioni io qualcosa di questo lo capisco insomma la storia della mia vocazione è stata travagliata anche sotto questo punto di vista perché quando sono diventato prete i miei genitori hanno gioito quando glielo ho detto come dire sconvolgendo i loro piani di vita insomma non sono stato tanto contenti per dire un eufemismo insomma vabbè non andiamo troppo nei dettagli avrei loro lasciato vesti e mantello pur di seguire la voce che mi dice vieni con mia diletta e mia sposa tutto avrei loro lasciato e le perle delle lacrime perché avrei pianto nei doveri di subidire e i rubini del mio sangue perché anche la morte avrei schidato per seguire la voce che chiama avrebbero loro detto i rubini del mio sangue che vi è qualcosa di più grande dell'amore di un padre e di una madre e più dolce ed è la voce di Dio ma ora la sua volontà mi è sciolta anche da questo laccio di pietà filiale già l'accio non sarebbe stato erano due giusti e Dio certo parlava in loro come a me parla sentite no parlava in loro come a me parla chiediamoci noi se avete mai sentito la voce di Dio che vi parla nel cuore se come quando quanto non la sente soltanto che non si metti in ascolto perché Dio parla sempre Dio parla a tutti se non hai mai sentito la voce di Dio non è perché non ti parla perché tu non l'ascolti o non ti metti nelle condizioni soggettive di poterlo ascoltare erano giusti Dio parla nel cuore di giusti Dio parla nel cuore di chi sta in grazia quindi di chi sta a un ambiente interiore tale da poter riconoscere la sua voce avrebbero seguito giustizia e verità i genitori quando io li penso li penso nella quede dell'attesa fra i patriarchi e affretto col mio sacrificio l'avvento del Messia per aprire loro le porte del cielo sulla terra sono io che mi reggo tanta roba eh ossia è Dio che regge la sua povera serva dicendo le sue comandi guardate la libertà di questa di questa creatura noi in coscienza possiamo dire che tutto quello che facciamo il nostro referente è Dio non è dominione pubblica la massa l'amico il marito la moglie il conoscente nessuno ascolto tutti per carità non siamo il Padre Eterno in terra quindi dobbiamo essere anche umili pensi che avere il figlio diretto col Padre Eterno ascolto tutti ma le mie decisioni sono tutte prese davanti a Dio tutte nella coscienza per carità che mi posso sbagliare e pregando sempre al Signore se mi sbaglio fammelo capire per questo sto anche aperto all'ascolto ma capite sono io che mi reggo sulla terra anzi è Dio che regge la sua povera serva dicendo le sue comandi pensate che Dio non ce lo dica quello che vuole se uno veramente nel cuore vuole fare quello che Dio vuole il problema dei problemi è sempre quello che noi vogliamo veramente fare se tu vuoi fare la sua volontà o la tua volontà se tu vuoi agire in vista di quello che lui vuole o vuoi agire per compiacere il prossimo per quieto vivere per rispetto umano per interesse per evitare guai per evitare fastidi per evitare danni per evitare cruci o gli avanti ce ne stanno lui mi dice i suoi comandi ed io li compio poiché compierli è la mia gioia quando l'ora sarà io dirò allo sposo il mio segreto ed egli lo accoglierà pensate no? dire a un uomo una cosa del genere a quei tempi cioè che era una cosa ma Maria le chiede Anna di Fanuella la sapienza umana il buon senso la ragionevolezza umana non la sapienza ma quali parole troverai per persuaderlo? ma ti pare che avrai contro l'amore di un uomo eppure contro la legge di Dio guarda la chiesa vai contro la legge della chiesa vai contro quello come si fa? che fanno? avrò con me Dio fine fine il Dio aprirà la luce del cuore dello sposo la vita perderà i suoi culi di senso divenendo un puro fiore che ha profumo di carità la legge Anna non dirmi bestemmiatrice a cui anche la Madonna fa un altro ex-voa di quelli proprio paurosi io penso che la legge stia per essere mutata immaginate se un rabbino avesse sentito quella cosa cioè avete visto Caifa che si straccia le vesti davanti ma ci chiamo fortuna che ha sentito Anna di Manuel che non c'era nessuno lì dentro e chi glielo diceva queste cose alla Madonna la sapienza che ce l'aveva e era vero che la legge stava per essere mutata ma era una cosa che non si poteva manco pensare manco di perché cioè andava contro ogni buon senso andava contro apparentemente andava contro Dio stesso capite in che situazione ci può mettere anche la divina volontà no? io penso che la legge stia per essere mutata e da chi tu pensi sia divina? facile dal solo che mutare la vuoi cioè da Dio il tempo è prossimo più che pensiate io ve lo dico perché leggendo Daniele 9.24 la profezia delle 70 settimane di anni prima dell'avvento del Messia una gran luce mi si è fatta non 70 settimane adesso spiega la Madonna mi si è fatta venendolo al centro del cuore e la mente ha compreso il senso delle arcane parole abbreviate saranno le 70 settimane per le preghiere dei giusti mutato il numero degli anni no profezia non mente ma non il corso del sole questo sono il nostro spirito santo voglio dire alla Madonna gli esegenti sono cervellati su queste cose qui ma voglio cervellarsi si bene quello della luna è la misura del tempo profetico voi sapete che la luna 70 settimane di un anno lunare non è come l'anno solare perché lo sapete che ogni mese lunare ha 28 giorni non 30 o 31 moltiplicatelo per 70 settimane quindi per 490 i giorni cominciano a essere tanti quindi il tempo comincia a essere qualche anno prima non qualche giorno prima mi seguite? quindi il riferimento non è il sole ma è la luna perché Dio non mente mai anche qui quando noi ci troviamo dinanzi a quelle cose che dove sembra anche nella Bibbia che i conti non tornano quando i conti non tornano non è perché Dio ha sbagliato attenzione perché tu non hai capito perché non è facile capire cioè perché Dio parla per enigmi purtroppo quindi Dio non si sbaglia mai siamo noi che non l'abbiamo capito o che ci siamo messi in testo un'interpretazione o una lettura di una profezia di un fatto che era nostra ma non è quello nel senso in cui Dio lo intendeva vi assicuro figlioli miei questa è un'altra cosa che non è che è fondamentale è più onde io dico prossima è l'ora che udrà avvagire nato da una vergine o volesse questa luce che mi ama dirmi poiché tante cose mi dice dove è la felice che partorirà il figlio a Dio e il Messia al suo popolo e qui c'è un'altra nota non deve stupire questa ignoranza di Maria sul suo futuro di madre di Gesù Dio che per singolare privilegio aveva concesso sapienza sproporzionata al suo stato di immacolata e predestinata a madre del verbo incarnato per motivi a noi imperscutabili volle che Maria ignorasse cose sino al momento giusto di saperle la Madonna non sapeva tutto perché non sapeva tutto perché la Madonna vedete come si vede è una creatura divina ma non è una Dea quindi sapeva tante cose sproporzionate alla sua intelligenza ne sapeva veramente tante ma non tutto perché? perché non è Dio non è Dio era piena di grazia quindi sapeva tutto quello molto di più di noi ma tutto quello che Dio voleva che sapesse Dio non voleva assolutamente che lei sapesse prima del tempo di essere la predestinata e non lo sapeva e per questo quando lei dice ma dove sta lei è sincera nel cuore ora sentite che dice ora sentite come spara allora dice oh dov'è la felice che partirà il film del suo popolo sentite camminando scalza percorrerei la terra e né freddo né gelo né polvere né soleure né fiere né fame mi farebbe l'ostacolo per giungere da lei e dirle concedi alla tua serva e alla serva dei servi del Cristo di vivere sotto il tuo tetto io girerò la macina nello strettoio come schiava alla macina mettimi come mandriana al tuo greggio come collega deterge i pannolini al tuo nato mettimi nelle tue cucine mettimi nei tuoi formi mettimi dove vuoi ma accoglimi che io lo veda ne oda la voce ne ricevo allo sguardo basta questo e se non mi volesse la madre del figlio di Dio non mi vuole e mo che facciamo guardate la fantasia mendica la sua porta io direi di elemosi nei scherni all'addiaccio e al soleone pur di udire la voce del messia bambino e l'eco delle sue risa e pur di vederlo passare o diventa un po' complicato e forse un giorno riceverei da lui l'obbolo di un pane o se la fame mi straziasse le viscere Gesù bambino gli va a dare un pane a lei che sta morendo di fame alla porta perché quella non la fa entrare o se la fame mi straziasse le viscere mi sentissi mancare dopo tanto digiuno non mangerei quel pane curate lo terrei come sacchetto di perle contro il cuore lo bacerei per sentire il profumo della mano del Cristo e non avrei più fame né freddo perché il contatto mi darebbe estasi e calore estasi e cibo e qui ha una sbotta tu dovresti essere la madre del Cristo tu che l'ami così è per questo che vuoi rimanere vergine? ma quando risponde oh no carità io sono miseria e polvere non oso alzare lo sguardo verso la gloria sapete stava nel tempio verso la gloria e il santo dei santi il luogo dove c'era la presenza della gloria di Dio è per questo che più del doppio velo anche qui riferimento al tempio di Gerusalemme c'era il primo e poi il secondo velo prima del santo dei santi oltre il quale so essere l'invisibile presente di Yahweh presenza di Yahweh io amo guardare dentro il mio cuore là oltre il vero è il Dio terribile del Sinai qua in me io vedo il Padre nostro un'amorosa faccia che mi sorride e benedice perché sono piccola come un uccellino che il vento sorregge senza sentirne il peso è debole come stelo del mughetto selvaggio che non sa che fiolire e odorare e al vento non oppone altra forza che quella della sua profumata e pura dolcezza Dio il mio vento di amore non per questo ma perché allato da Dio da una vergine al santo del santissimo non può che piacere che ciò che è in cielo ha scelto per madre e ciò che sulla terra gli parla del Padre Celeste la purezza io guardate anche nella genesi della mia vocazione questo pensiero vi posso dire ce l'ho avuto chiarissimo dentro la testa questa è una piccola confidenza il fatto della purezza cioè un discorso molto disperto ma se Gesù Cristo è stato vergine la Madonna è stata vergine ma te è molestando attenzione mi raccomando nessuno senta male quindi la bontà e la bellezza del matrimonio ma è chiaro che questa è una cosa che a Dio gli piace di più io ho avuto tanti travagli vocazionali non sapevo se il Signore mi volesse io sto facendo l'ultima cosa che pensavo di fare l'ho detto tante volte pensavo di fare meno il predice e meno il parro devo fare il monaco devo fare il frate devo fare il missionario io tutte queste cose pensavo però una cosa stava sempre chiara devo rimanere vergine questa stava sempre chiara poi quello che il Signore vorrà farci non lo so ma a un certo punto si è fatta chiara questa percezione perché io capisco la Madonna quando dice queste cose qui se la legge meritasse questo se i rabbì che l'hanno moltiplicata in tutte le sottigliezze del loro insegnamento volgendo la mente a orizzonti più ati si immergessero nel soprannaturale lasciando l'umano e l'utile che perseguono dimenticando il fine supremo dovrebbero soprattutto volgere il loro sguardo a insegnare la purezza e questo vale anche per i rabbini di oggi la tematica sulla purezza è assolutamente prioritaria è la prima cosa a cui si deve puntare nell'anima di ogni battezzato non è l'unica ma è la prima perché se uno è impuro state tranquilli che Dio non c'ha proprio niente a che fare impuro sotto qualunque punto di vista non è che tutti i cantiti devono essere vergi tutti i cantiti devono essere puri anche gli sposati e tutti i peccati contro la purezza devono essere confessati tutti bene fino all'ultimo dettaglio tutti quanti se non c'è nessuna speranza di entrare in contatto diretto con Dio con l'ulivo del pacifico con le palme del trionfatore spargete gigli e gigli e gigli quanto sangue dovrà spargere per redimerci il salvatore quanto dalle mille e mille ferite che Isaia vide sull'uomo dei dolori ecco che cade come ruggiata da un vaso poroso una pioggia di sangue non cada dove a profanazione e bestemmia questo sangue divino ma in calici di purezza fragrante che lo accolgano e raccolgano per poi spargerlo ai malati dello spirito ai lebrosi dell'animo ai morti a Dio capite anche perché la Chiesa il celibato dei sacerdoti lo difenderà sempre sempre non è una condizione di validare il sacramento dell'ordine penso che lo sappiate per questo ogni tanto qualcuno si mette in testa di ordinare anche le persone sposate perché gli apostoli molti erano sposati quindi voi capite che se l'essere vergine fosse condizione di validare il sacramento dell'ordine San Pietro non sarebbe diventato prete e vescovo perché l'ha lasciata la moglie verrà sposato ma questa è una gemma che non si tocca e né a causa di eventuali peccati o comportamenti scandalosi di ministri di Dio si può abbassare capite il target no? ah siccome fanno tutti questi peccati fammoli sposati così almeno nel matrimonio almeno non c'è nessun peccato questo non accadrà mai Dio non permette io sono sicuro questo non permette Dio non permette ne sta permettendo tante anche nella chiesa ma questo non lo può permettere il giglio del sacerdozio non può essere violato assolutamente non almeno con una legge poi che ci siano sciagurati che ne fanno peste e corna a fare il loro e se la vedranno con la divina giustizia ma non per legge della chiesa perché Dio vuole che quel sangue sia versato in calice e gigli che poi lo spandano loro sulle anime dei lebrosi dei malati dello spirito e dei morti a Dio il sangue deve cadere sui gigli dice la mononna date gigli gigli date per asciugare con la candida veste di petali puri i sudori e le lacrime del Cristo date gigli gigli date per l'aldore della sua febbre di martire oh dove sarà quel giglio che ti porta dove quello che ti dissederà l'arsura dove quello che si farà rosso del tuo sangue morirà per il dolore di vederti morire dove quello che piangerà sul tuo corpo sdenato oh Cristo Cristo sospiro mio qualcuno mi ha aiutato a leggere senza fare lo spettacolo però Maria tace lacrimante e sopraffatto e Anna di Fanuel tace per qualche tempo e poi con la voce bianca di Pegliarda commossa dice hai altro da insegnarmi Maria mica è finita ancora detto così mamma mia Maria si scuote deve credere nella sua umiltà che la sua maestra la rimprovo e dice che ti metti a fare la maestra a me peccato di superbiario e dice oh perdono tu sei maestra io sono un povero un nulla ma questa voce che mi sale dal cuore io ben la sorveglio per non parlare ma come fiume che sottoempi d'onda rompe le righe ora ecco ma presa ed è stralivata attenzione io ben la sorveglio per non parlare quindi attenzione che c'aveva per non rivelare tutte le cose che dalla mattina alla sera gli diceva nostro signore custodendola nel silenzio non far conto delle mie parole e mortifica la mia presunzione le arcane parole dovrebbero stare nell'arca segreta del cuore che Dio nella sua bontà benefica io lo so i segreti del re non si dicono a nessuno i segreti del re quello che Dio fa con noi nel nostro intimo a nessuno ma è tanto dolce questa invisibile presenza che io ne sono ebra Anna perdona la tua piccola serva Anna se la stringe a sé e tutto il vecchio viso rugoso trema e luccica di pianto le lacrime si insierono fra le rughe come acqua per terreno accidentato che si muta in tremolo a quidrino ma la vecchia maestra non suscita riso anzi il suo pianto eccita la più alta venerazione Maria sta fra le sue braccia il visetto contro il petto della vecchia maestra e tutto finisce così finiamo anche noi così perché non ci sono molte cose da aggiungere ho detto che sarebbe stato un esplorio impressionante per quanto io questo episodio ve lo ricordi praticamente quasi a memoria dettaglio per dettaglio però impossibile ogni volta che lo si rileggia nel particolare ecco non rimanerne veramente oltre modo scossi ringraziamo il Signore diciamo un istante minuto di silenzio e poi se ci avete voglia diciamo un altro rosario così se no che è un'esplorio